Vai. Nei giorni scorsi, ben trovati intanto, i giornali hanno, e c'ho qui una copia, un richiamo, il Club per l'UNESCO onora il lavoro di Leonida Repaci, pubblicazione importante su questo straordinario intellettuale che è stato davvero esemplare non solo per la sua terra, ma che pur lasciando palmi, perché era palmese, ha sempre ricordato la sua radice, la sua calabresità. Consentitemi di leggere, a completamento scrive Sigfrido Parrello, che è figlio di Peppino Parrello, giornalista straordinario scomparso recentemente, a quale va il nostro ricordo, a completamento di un impegno importante e particolarmente stimolante per il valore culturale che sottende e con ultima pubblicazione curata dal Club per l'UNESCO di Palmi, grazie all'impegno dell'attivissimo Presidente Rocco Militano. Circa 100 pagine in pregevole veste grafica, proprio su alcuni momenti, su alcuni luoghi che per Leonida Repaci sono stati importanti. Ecco, avete sentito il Club per l'UNESCO, a Palmi fa molto onora Leonida Repaci. E io parto da qui per dire che a Gioiosa Ionica c'è un altro Club per l'UNESCO che è presieduto, ogni tanto l'emozione mi fa interrompere, vi chiederò scusa, perché a queste cose ci credo. A Gioiosa Ionica, dicevo, c'è anche un Club per l'UNESCO che è presieduto da Nico Vitetta. Nico Vitetta è il Presidente del Prologo di Gioiosa Ionica e qualche anno fa si è messo in testa, avendo ragione peraltro, di fare di Gioiosa Ionica davvero un laboratorio. Si è impegnato, si sta impegnando, le difficoltà non sono mancate, perché poi bisogna fare i conti anche un po' con qualche invidia, insomma, è umana, non vogliamo giudicare nessuno, però questo signore con tenacia, con determinazione e silenziosamente è riuscito a portare a Gioiosa Ionica autentici big della letteratura, della comunicazione, del giornalismo, insomma vere e proprie celebrità, con una serie di iniziative che ormai hanno, non dico una cadenza settimanale, ma quasi, in media due volte al mese c'è un evento e questo è un merito, perché dà una centralità a Gioiosa Ionica importante, perché Gioiosa Ionica è una realtà meravigliosa, peccato che nessuno di noi la conosco o comunque la consideri, questo è il guaio, che abbiamo delle cose meravigliose dietro l'angolo e non lo sappiamo, poi lo scopriamo o le scopriamo quasi per caso. Ecco, Gioiosa Ionica è straordinariamente importante per quello che ha rappresentato dal punto di vista culturale, dal punto di vista storico, ma oggi è davvero, in maniera assolutamente innegabile, un laboratorio importante per dare forza a delle idee. Il Club per l'UNESCO è una realtà, è una verità, oserei dire, perché riesce ad essere pronto, tempestivo nelle organizzazioni a proporre idee nuove. Ecco, quindi teniamoci stretti persone, uomini come il Presidente del Club per l'UNESCO di Palmi, Militano e come Nico Vitetta che è il Presidente del Club per l'UNESCO di Gioiosa. Ricordiamo quella Gioiosa sul cui territorio c'è quella meraviglia e non solo quella, ma quella da particolare pregio che si chiama Naniglio. Complimenti a chi si impegna per garantire lustro a queste meraviglie del nostro territorio.